Super venerdì sera del futsal con Cosmos Ardea Atletico Laurentino 80. Le due squadre, reduci dal KO, vogliono rialzarsi ed è subito Pathos al sesto con Alami che su corner carica la bomba bloccata in due tempi. La risposta giallonera è Conardone che sul filtrante prova lo scavetto ed è traversa. Clamorosa chance ma passano sei minuti, grande azione prolungata Cosmos, De Rossi avanza elegante, poi Schick per Alami, palla di ritorno, conclusione secca e palla in rete. 1-0 Cosmos e padrone di casa in scioltezza, qui Berzioli si era prepara per il mancino rassoterra e di piede il portiere si oppone. Poi subito dopo, occasione d'oro, De Rossi lancia Cefaro che davanti al portiere si fa ipnotizzare ed è l'ultima occasione del primo tempo, ma nella ripresa il copione non cambia. Pronti via, fraseggio scintillante Cosmos, assis prezioso di campanile per Tritini che non può sbagliare ed è 2-0 Cosmos. Predominio netto degli ardietini e ancora De Rossi sugli scudi, nel corridoio illumina per Teti e sono brividi. Subito dopo poi, assis incredibile per Mazzaroppi ed è una gran parata. Un minuto appena e in contropiede in break, altra palla super per Tritini che in diagonale non sbaglia. Va al tappeto ma segna ed è 3-0. È vera supermazia Cosmos, ma la partita cambia quando su corner Fulminio Petric è tutto solo e può insaccare ed è 3-1 da sottomisura e partita riaperta, perché un minuto dopo sciabolata bassa per Marras che fredda il portiere e fa 3-2. Tutto in gioco nel finale. Dalla parte opposta ha servito alla perfezione, Alami da due passi non inquadra ed è vero rammarico perché la legge del gol punisce. Punizione orizzontale per Marras che apre il piatto destro e brucia il portiere e fa 3-3. Che partita e non è finita. Allo scadere tiro libero atletico per Alessio Marras, lunga rincorsa e la palla va in rete. Sorpasso lo scadere, incredibile, ma non è ancora tutto perché in pieno recupero. Assalto finale Cosmos, filtrante per Tritini che spara col mancino e la infila in porta. 4-4, ancora parità, match pazzesco e titoli di coda. I Cosmos la riprendono sul gongo. Dopo aver dominato a lungo, recriminano entrambi i club. Ma che spettacolo!